Amare l'Inter quest'anno diventa sempre più difficile. A loro, ai tifosi, pare che questa banda di ragazzini debba sbocciare da un momento all'altro come un mazzo di rose. Invece continua la collezione di promesse mancate. Una vittoria ad Ascoli, un pareggio a Torino con la Juventus, la prima mezz'ora di oggi avevano gasato non poco il clan Nerazzurro. Poi alla fine uno 0-0 desolante. Bersellini dirà che l'area vicentina era più affollata di un grande magazzino del centro, Fabri risponderà per le rime. Tutti di qua e di là lamentano qualcosa chiedendo aiuto alla Moviola per saperne di più. Chi ha visto vorrebbe pure conoscere la vera consistenza dell'Inter e magari se il Vicenza è tornato sulla strada buona. Impossibile però dirimere in molti dubbi. Il pareggio è stato totale da ogni punto di vista. L'Inter infatti recrimina per il palo colpito da Marini, ma i vicentini fanno altrettanto rivedendo questa conclusione di salvi che Bordon riesce a deviare sul montante. Lo stesso discorso vale per i gol annullati. Non si spiegano gli interisti perché Delia non abbia convalidato i gol di Altobelli. A Vicenza sono convintissimi che Pablito fosse in posizione regolare quando è scattato verso Bordon. Insomma, questo materiale può servire per stare una serata intera insieme con Sassi e Vitaletti. A noi non resta che riproporvi il finale dell'Inter. Molto caos, forse anche un po' di Iella. Unico elemento quest'ultimo che la squadra di Bersellini ripropone con apprezzabile continuità. Poi però c'è un'altra cosa, un grosso portiere. Si chiama Ernesto Galli. Il migliore in campo oggi è stato lui e chiedetelo in giro se non ci credete.